Il sentimento straziante di una madre che perde il proprio figlio, la trasfigurazione del volto nell'attimo della consapevolezza. E' questo il filo conduttore di una mostra monotematica che in immagini e parole racconta lo straziante sentimento che annulla l'esistenza in vita di una donna che viene privata della vita che essa stessa ha generato. La mostra parte dalla raffigurazione più sublime e più rappresentativa di questo concetto nella religione cattolica, la Madonna addolorata, dedicando ampio spazio alle sue rappresentazioni statuarie e iconografiche. Abbiamo qui un abito che ci è stato concesso da una famiglia, una famiglia di fuori Francavilla, un abito del 1700 restaurato, un abito che è stato indossato proprio da una statua della Madonna addolorata. E poi abbiamo una statua di una Madonna addolorata molto molto simile a quella venerata a Francavilla, una addolorata al Trespolo. Quando parlo di Trespolo parlo di una tipologia di statua, sarebbe dire quelle statue che hanno un mezzo busto e poi una gabbia sotto e vengono vestite. Insomma questo è un antico rituale, quello delle vestizioni delle statue, specialmente della Madonna addolorata, che affonde le proprie radici non solo nella tradizione spagnola ma addirittura nella tradizione del nord Europa. Grazie a tutti.